Il Cantiere è il presidente onorario e questo appuntamento è intitolato alla bellezza, arte e bellezza un impegno per uscire dalla crisi. Ecco, in quest'Italia che si sta un po' trasformando anche politicamente, forse anche soltanto formalmente, ma ci sta un qualcosa di magmatico in corso in questo periodo, più o meno apprezzabile ovviamente a seconda dei punti di vista, ecco il tema dell'incontro, arte e bellezza un impegno per uscire dalla crisi. Con la politica Fabio Verna, come si coniuga? Io credo che arte e bellezza sia un momento significativo del nostro Paese, di tutta l'Italia. Personalmente quando non mi occupo del Cantiere, che è un impegno di grande gioia, di grande passione, io ho sempre detto agli amici del Cantiere che quando mi hanno voluto eleggere a questo incarico, per io di essere un presidente onorario, mi sono sempre sentito un presidente onorato di poter in qualche modo avere questa possibilità di rappresentare queste idee, questa cultura, questa espressione di intelligenza, se me lo consentite, di persone molto più capaci e competenti di me che stanno lavorando tutti quanti per offrire risposte, studi, valutazioni a quello che è la situazione attuale politica e economica del nostro Paese. Fatto questo breve preambolo, io di mestiere faccio l'economista e ritengo che una delle ricchezze del nostro Paese, un patrimonio nazionale, sia la nostra arte, la nostra bellezza e la nostra storia. In questo caso storia, voglio parlare di storia anche artistica. Noi abbiamo a Roma, nella mia città, ma in tutta Italia, Roma è il più grande museo a cielo aperto del mondo, ma in ogni città d'Italia possiamo partire dai bronzi di riace per arrivare ai canali veneziani, possiamo ricordare per tutto il Paese dei momenti storici, culturali e artistici talmente nobili che noi a livello economico non riusciamo a sfruttare. Noi dovremmo poter far sì che queste bellezze debbano diventare, passatemi il termine anglosassone, degli asset delle attività perché possono in qualche modo, oltre che farle fruire a tutti quanti i cittadini del mondo, perché non debbano essere un patrimonio solo di noi italiani, debbano essere un patrimonio proponibile anche al di fuori, ma dobbiamo avere la capacità di sfruttarlo nel senso positivo, offrendo per cui percorsi paesaggistici, eventi turistici, eventi culturali, la ristorazione, perché l'Italia ha una delle grandi ricchezze, anche l'Italian food, la cucina italiana, la dieta mediterranea che è considerata a livello mondiale un'eccellenza. Dobbiamo cominciare a pensare che il nostro Paese è un grande Paese, un Paese molto positivo, che abbiamo avuto delle capacità degli uomini, degli imprenditori che hanno fatto grande l'Italia e famosa l'Italia nel mondo e che probabilmente se in questo periodo sicuramente molto molto difficile, sicuramente di grande crisi economica, vorrei aggiungere di grandi crisi finanziaria più che economica, perché il debito pubblico, perché quello che viene chiamato il credit crunch, ovvero sia la contrazione del credito che viene dato dalle banche al nostro sistema produttivo, le aliquote fiscali che sono oramai arrivate a degli eccessi improponibili, stanno danneggiando quella che è la quotidianità, la liquidità necessaria delle imprese e così conseguentemente dei cittadini. Dobbiamo saper sfruttare l'arte, la bellezza, la cultura del nostro Paese che ha migliaia di anni di storia, che ci viene riconosciuta internazionalmente, sia per quello che è, perché poi l'arte non deve creare una sorta di eccesso di utilitarismo, però sicuramente deve essere messa in reddito. Qualche giorno fa siamo stati censurati dalla Commissione europea perché non siamo riusciti a mantenere una delle opere, dei ricordi della storia dell'umanità a Pompei, che ci è stata tramandata nei secoli, non siamo riusciti a mantenerla con quella cura, con quella costanza, con quei costanti restauri che necessita e che merita una città con duemila anni di storia, che ci è stata tramandata da quello che fu un evento apocalittico, l'eruzione del Vesuvio, ma che ci è stata tramandata ai giorni d'oggi di fatto integra. Potremmo parlare per ora di arte e bellezza. Io credo che sia un momento importante, abbiamo scelto questo life motif per l'assemblea annuale del cantiere. Oggi il cantiere si riunisce, un'assemblea generale in cui ciascun socio, associato o amico di associati che vorrà iscriversi potrà dare un suo parere e una sua espressione di volontà, perché noi siamo un'associazione aperta, siamo un'associazione pronta ad accogliere idee di tutti, siamo un'associazione pronta a difendere le idee di chi non la pensa come noi e di contraddirle con altre tante idee di cui ci sentiamo fieramente portatori. Per cui questo è il nostro spirito. Alla fine dell'assemblea uscirà fuori un nuovo gruppo di rappresentanza, non mi piace parlare in una situazione di gruppo dirigente, forse io rimarrò ancora il presidente onorario, forse no e se non dovesse essere mi metterò al lavoro insieme a tutti gli altri con lo stesso spirito di sacrificio, lo spirito di servizio che caratterizza ciascun componente del cantiere, siamo tutti, loro sono tutti molto bravi tranne me, io ho solo i capelli bianchi e per cui questa è la nostra giornata di lavoro. Stiamo portando avanti una serie di progetti importanti che vanno dalla attualissima riforma elettorale che è in votazione alla Camera fra un paio di giorni, ha tutta una serie di problematiche occupazionali, ricordo il Jobax che va in Consiglio dei Ministri il prossimo mercoledì, sono momenti importanti per il Paese, c'è un grande fermento di tutti i cittadini italiani, il Movimento 5 Stelle ha voluto dire in maniera forte ovviamente la sua, il Partito Radicale è presente con delle proposte, vi sono i Forconi, vi sono tante altre associazioni come la nostra con cui noi facciamo rete, vi stanno pensatori, think tank come dicono quelli bravi, sto pensando alla Fondazione Naudi, c'è voglia di proporre del nuovo, c'è voglia di andare verso dell'altro, quello che noi chiamiamo il nuovo possibile. Credo che gli italiani meriti con questo, credo che il nostro Paese lo meriti e credo che tutti quanti rubo le parole al Presidente John Kennedy, dobbiamo smettere di pensare cosa l'Italia possa fare per noi, ma cominciare seriamente a pensare cosa noi possiamo fare per il nostro Paese. Perfetto, allora con questo invito ovviamente anche i buoni propositi, io voglio soltanto leggere alcune parole importanti che stanno nella brochure per la stampa qui per questo evento, perché la bellezza è donna, l'arte è donna, la politica è donna. Il 9 marzo e ovviamente diciamo il fatto che in Italia ancora una effettiva parità di genere per quanto riguarda le opportunità non sia raggiunta, lascia margini anche per quanto riguarda la politica a miglioramenti effettivi, anche sostanziali per un futuro, per una trasformazione di quest'Italia. I miglioramenti ci sono e sono nel DNA non solo del nostro Paese ma di tutti i cittadini del mondo. Sono miglioramenti costanti ma lenti. Noi esseri umani, ciascun singolo essere umano misura i passaggi storici sulla propria temporalità di vita. Normalmente i passaggi storici richiedono molto di più. Il rapporto e il differenziale di apprezzamento uomo-donna risale a decine di migliaia di anni fa. Soltanto nei secoli più recenti vi sono stati dei passaggi in cui la donna ha avuto un momento di evoluzione importante. Io avendo i capelli bianchi ho vissuto in prima persona nel 68 per cui ricordo chiaramente le battaglie per l'emancipazione della donna, la famosa rivoluzione sessuale, il partito radicale ha portato avanti discorsi importantissimi come la riforma del diritto di famiglia, l'aborto, ci fu la pillola, elemento di grande liberazione della donna. Vi furono una serie di passaggi importantissimi. È chiaro che questi passaggi richiedono dei tempi. È chiaro che questi tempi non sono spesso in qualche modo riscontrabili in 4, 5, 6, 7 anni. Io sono certo che tutto questo sta avvenendo, sta avvenendo in maniera importante. Le donne italiane sono delle grandi donne, sanno essere madri, mogli, working girl, professioniste ed è molto più faticoso fare tutto questo tutto insieme. Sono critico su una proposta di legge in questo momento allo studio del governo in cui stanno ipotizzando di avere un Parlamento in cui il 50% dei nostri rappresentanti sia di sesso maschile e il 50%. Ma non perché sia critico che ci sia un incremento della presenza femminile. Se io mi trovassi a essere un cittadino italiano con 630 deputati di sesso femminile non mi sentirei assolutamente meno rappresentato. Forse vorrei che quei 630 rappresentanti di sesso femminile fossero molte più brave di noi maschietti e per cui ci, passatemi la battuta, rubassero il posto. Trovo meno sportivo che debba essere messo a tavolino e dover dividere. Però questo è un mio modesto pensiero che non deve essere il pensiero di tutte le persone che ci ascoltano, dei parlamentari o addirittura del cantiere stesso. Ognuno di noi ha, ed è questa la bellezza della libertà del confronto dialettico, del confronto di idee, perché le idee arricchiscono sempre tutti e devono migliorare sempre tutti, potrebbe essere sicuramente dalla possibilità alla donna di concorrere bene. Abbiamo un consiglio dei ministri in cui abbiamo otto ministri maschietti e otto ministri femminucce, sono convinto che faranno molto bene, soprattutto in un momento così difficile per l'economia italiana e in questo momento ci stiamo preoccupando moltissimo dei fatti di casa nostra. A poche migliaia di chilometri a qui ci sono venti di guerra che mi spaventano molto di più di taluni fatti interni al nostro paese. Ucraina, Crimea non sono poi così lontani. Purtroppo Crimea mi fa ricordare tanto Camillo Benzo di Cavour e i suoi bersaglieri. Per cui credo che la donna abbia tutto il diritto di partecipare alla vita pubblica, alla vita attiva del paese esattamente come noi e credo che sicuramente dal famoso 8 marzo in cui ci fu il famoso incendio, in realtà è una leggenda perché i fatti sono un po' diversi, il famoso incendio a questa fabbrica di tessuti, la Cotton a New York, perché prende l'8 marzo spunto da lì, in realtà poi nel 1917 ci fu l'8 marzo, un momento di rivoluzione femminile che fu un prodor, ma poi ai fatti dei giorni dell'ottobre 17 con la rivoluzione russa. Per cui sicuramente la donna si è conquistata al suo spazio, il voto, il suffraggio universale. Benvenga tutto questo, ma questo è talmente acclarato, non è neanche elemento di discussione. Grazie Fabio Verna, a questo punto buon lavoro. Grazie a voi tutti, buon lavoro e complimenti perché ci seguite.